Buongiorno e benvenuti nel mio canale vedremo come aumentare la risoluzione di un video senza perdere la qualità o perlomeno cercando di diminuire al massimo la perdita di qualità facciamo subito un esempio di quello che succede questo è un video da 640x360 pixel se io lo faccio riprodurre vedete in questo piccolo schermo il video è buono, di buona qualità ma se io lo metto in uno schermo molto più grande come per esempio lo schermo di tutto il computer che è 1920x1080 ecco che succede, si vede subito che la qualità è decisamente peggiore vedremo come convertire un video da una bassa risoluzione a una risoluzione molto più alta con Shotcut, quindi con un editor video gratuito mantenendo una buona qualità chiaramente la qualità non sarà perfetta ma sarà sicuramente molto buona si apre Shotcut questo è Shotcut si va su elenco di produzione e si trascina il video in oggetto qui qui si stoppa mette in pausa poi si trascina nella timeline a questo punto dobbiamo subito impostare la risoluzione del video risultante dunque per vedere la risoluzione del video originale ci si clicca sopra con il destro del mouse si va su proprietà si va su dettagli e si vede che la risoluzione del video originale è appunto 640 pixel x 360 pixel questa è la risoluzione per impostare la risoluzione originale del video si deve andare subito su esporta poi su avanzato e qui vedete si può impostare subito la risoluzione in questo caso ho impostato la risoluzione quella in HD in pure HD 1920 x 1080 ho potuto impostare questa risoluzione perché ha una proporzione di 16 noni che è esattamente la stessa proporzione di quella originale cioè di quella 640 x 360 chiaramente se io esportassi il video così com'è il risultato sarebbe quello che abbiamo già visto cioè con una risoluzione alta ma con una qualità bassa come si fa a risolvere questa situazione si applica un filtro un filtro che in inglese si chiama Sharpen e che è presente anche su Da Vinci Resolve purtroppo non possiamo utilizzare Da Vinci Resolve perché il filtro Sharpen non è gratuito bisogna passare alla versione a pagamento per poterlo utilizzare però invece su Shotcut il filtro Sharpen esiste e si può utilizzare gratuitamente quindi si va su Filtri più Filtri Video e il filtro Sharpen è stato tradotto come Akuishi questo si va su Akuishi e qui viene diciamo così mostrato vengono mostrati questi due cursori si può vedere anche diciamo così visivamente cosa significa applicare questo filtro applichiamo innanzitutto aumentiamo la quantità vedete si vede già anche visivamente il miglioramento della qualità mettiamo al massimo sia la quantità sia la dimensione di Akuishi Sharpen e adesso esportiamo il video andiamo quindi su esporta lasciamo quindi la risoluzione 1920x1080 quindi andiamo su esporta file chiamiamolo video 1920x1080 andiamo su salva qui sulla destra si vedrà il procedere della codifica del video ricordo che siamo partiti da un video di soluzione molto piccola 640x360 e abbiamo ingrandito il video fino ad arrivare a 1920x1080 quindi abbiamo ingrandito il video di 9 volte in termini di area praticamente 3 volte nella dimensione della lunghezza più o meno e 3 volte nella dimensione della dell'altezza dunque è già stato codificato andiamo a vedere a verificare qui nascondiamolo questo è il video originale lo porto a dimensione di 1920x1080 e questo è il video invece quello appena realizzato tramite shotcut e lo porto a dimensione di 1920x1080 guardate la differenza questo è il video che è stato con sharpen con il filtro acuisci questo è il video originale vedete la qualità non è eccelsa ma si vede chiaramente quanto sia più nitido il video processato con shotcut rispetto a quello originale quindi si può pensare di aumentare la risoluzione di un video mantenendo una buona qualità con shotcut che è un programma gratuito vedete con il filtro acuisci guardate credo che non ci siano dubbi sul fatto che questo filtro funziona alla prossima volta